Noi vogliamo lotarti, vogliamo lotarti, vogliamo lotarti, vogliamo lotarti, vogliamo lotarti. Sentiamo l'unzione, sentiamo l'unzione stasera. sentiamo la tua gloria grazie signore grazie signore grazie signore o rifugio dell'anima conforto del cuore sostegno della vita libera i figli tuoi da questo tempo di torpore di indifferenza di incredulità e la fede tua ritorni a rivivere e essere ristabilita in ogni cuore per la tua grazia alleluia vogliamo ringraziare ti preghiamo per tutti i nostri fratelli che sono in letto con la febbre con la malattia con l'infermità li affidiamo a te perché tu li sani perché tu li consoli perché tu li consigli perché tu li ammaestri perché tu apri lo sguardo tuo sopra di loro li affidiamo nelle tue mani ed ancora tutti gli altri che sono davanti a te che non hanno dei motivi specifici di salute o signore li rimettiamo nelle tue mani affranca l'opera tua alleggeriscila da questi pesi o Dio e alleggerisci pure il nostro cuore intervieni te lo chiediamo per grazia e nel nome di Gesù il nostro Signore benedetto in eterno amè amè accomodatevi numero 31 di questa seconda raccolta ripeto 31 oh grazie Signora grazie 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 nel nome di Gesù nel nome di Gesù grazie Signora grazie Signora grazie grazie numero 100 al posto del numero 31 cantiamo il numero 30 tu sei davvero grande grazie Signora grazie grazie alleluia 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 benedetto il nome prezioso di Gesù Alleluia Fa te la lode Gesù Gloria a Dio, Gloria a Dio Alleluia A Dio, Gloria a Dio Gloria a Dio Gloria a Dio Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Sento Grazie a tutti 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 Grazie a tutti